Cucinando con noi ancora una splendida ricetta, splendida da vedere ma anche soprattutto gustosissima da mangiare. Siamo con Leandro e Tiziano, chef e secondo chef del ristorante Giordano Bruno a Indarsena a Viareggio. Oggi, Leandro, niente fornelli ma bensì il forno. Che piatto ci prepari? Prepariamo un millefogli di patate branzino con una vellutata di asparagi, crema di burrato e tartufo nero. Ok, e Tiziano procede alla costruzione del piatto. Iniziamo la lavorazione, la scaloppatura del branzino. In pratica viene pulito, chiaramente, no? È tenuta solo la polpa. Certo. Così che dopo andremo a marinare con prezzemolo, olio all'aglio, sale e pepe. Allora, pesce scaloppato e marinato. L'abbiamo messo a marinare. Nel mentre che il pesce è a marinare prepariamo le patate che vanno ridotte a chips. Ok, queste qui vanno sbollentate un minuto. Ok. Poi prepariamo anche... Facci vedere Tiziano, vai come fai. Ok. Mentre Tiziano monta il millefoglie, poi dobbiamo preparare anche la vellutata di asparagi. Come l'hai preparata? Che la prepariamo con scalogno, ci saltiamo gli asparagi dentro, lo portiamo a cottura e poi lo frulliamo nel mixer. Ok, perfetto. E qui diviene una vellutata. Poi bisogna preparare anche la crema di burrata. E quella? Facciamo burrata, sale, olio, un pizzico di pepe e anche questo qui lo frulliamo a mixer. Ok, perfetto. Quindi riduciamo tutto a crema. Poi un altro, un altro ingrediente è il tartufo nero, ok? Mamma mia che bel tartufo. Tartufo estivo, che questo qui va pulito con uno spazzolino. Tartufo estivo? Tartufo estivo. Perché, diciamo, viene raccolto in questo periodo. Ora, in questo periodo, certo. Ecco fatto. Quindi, ora questo lo mettiamo in forno, abbiamo detto che la caratteristica... Questo tiziamo l'ha finito e lo mettiamo in forno con un pizzico di sale e una punta di olio. Il millefoglie che avevamo costruito è stato messo nel forno. Eccolo qua. Eccolo pronto per l'impiattamento. Pronto per l'impiattamento. Patatina chips si dice, vero? Patatina chips. Bella croccante. Ok, ora andiamo a impiattare. Mettiamo per prima la vellutata di asparagi. Nel fondo. Sì. Ecco, sempre facendo attenzione alla decorazione del piatto. Facciamo un disegno. Un bel disegno, vero? Poi impiattiamo il millefoglie. Che abbiamo detto all'interno ha il branzino. Ha il branzino. Pesce sempre rigorosamente fresco. Pesce locale, certo. Locale, locale che viene consegnato tutte le mattine. Tutte le mattine. Ecco, poi? Poi ci mettiamo la crema di burrata. Sempre che abbiamo fatto col mixer. Quindi abbiamo creato la crema col mixer. Olio, sale e pepe. Olio, sale e pepe. E dopo andiamo a spolverare. Che è il protagonista del piatto. Con il tartufo nero. Una bella grattata generosa. Generosa. Di tartufo nero. Anche se chiaramente i costi del tartufo sono alti. Sì, quello di ora. Quello di questo periodo è meno alto. Poi dopo andiamo sul bianco di dicembre che arriva a dei costi infiniti. Ok. E che lì bisogna essere amanti però. Assolutamente. Chi lo è, lo è davvero. Bene. Decoriamo con qualche germoglio di mostarda verde che ha un gusto agropiccante. Quindi al di là della decorazione qui c'è proprio anche l'abbinamento del gusto. Assolutamente, assolutamente. Ok. Il piatto è pionto per la terrazza. Ok. Io e Federico ci stiamo godendo questo venticello. Federico è il direttore del ristorante da Giordano Bruno. Elisa ci porta il piatto di oggi e della ricetta di oggi. Oggi Federico però vedo sul tavolo una bollicina. Abbiamo una bollicina, una bollicina sempre dei colli di luni che si abbina bene al tartù festivo. Quindi territorio per la Versilia. Certo.